E verrà come il sole che sorge al mattino Volerà come il vento che vola lontano Canterà, canterà come canta un bambino Correrà come chi vuole dirti è vicino Il Signore è qui Carissimi, ben ritrovati nel nostro appuntamento Il cuore parla al cuore nel quale incontriamo la ricchezza dei carismi delle manifestazioni dello spirito nella storia della Chiesa La vita dei Santi, abbiamo nella nostra sigla tanti volti più o meno conosciuti che abbiamo incontrato che incontreremo ma non tutti riescono a realizzare che in realtà il bacino di ricchezza della Santità nella Chiesa è anche legato alla storia e alle storie che troviamo nella Sacra Scrittura, le storie della Bibbia che non sono appunto solo le storie di qualche santo, Gesù, Maria, noi siamo abituati a pensarli quelli più noti, ma anche personaggi più o meno conosciuti, più o meno sconosciuti che però ci aiutano a comprendere meglio l'esperienza cristiana e anche i modi diversi con cui noi possiamo vivere questa vocazione, questa chiamata alla Santità come dice Papa Francesco nella sua esortazione apostolica, Gaudete ed Exultate, anche fuori da quelli che sono i canoni che possiamo pensare, no? Quelli che sono le caratteristiche di una vita santa, di una vita nel Signore, una vita piena e nella Sacra Scrittura troviamo tante storie molto interessanti, molto ricche e anche molto feconde nell'esperienza del cammino e della ricerca spirituale. In particolare oggi incontriamo nella figura, nel libro degli Atti degli Apostoli una figura di un personaggio che non è molto conosciuto, del quale alcuni sanno il nome semplicemente, una figura molto interessante nella ricerca dell'autenticità dell'esperienza cristiana soprattutto i primi decenni del cristianesimo. Parliamo di Gamaliele, un nome strano, Gamaliele è un fariseo, membro del Sinedrio, quindi un personaggio molto importante di Gerusalemme al tempo di Gesù e in particolare il maestro di niente meno che Saulo di Tarso, perché appunto San Paolo dice di aver avuto questo grande fariseo come maestro. Quindi una persona molto stimata, molto apprezzata e ascoltata anche nell'episodio degli Atti degli Apostoli in particolar modo, risulta essere determinante per la nascita del cristianesimo, per lo sviluppo anche della vita cristiana. Quando interviene Gamaliele? Siamo al capitolo VI del libro degli Atti degli Apostoli, l'esperienza cristiana dei primi decenni del cristianesimo è un'esperienza avversata. Da una parte questo libro degli Atti degli Apostoli che abbiamo già incontrato analizzando un po' l'opera lucana, l'opera di Luca, che appunto trova il primo libro, il Vangelo di Luca e il secondo libro degli Atti degli Apostoli, racconta nei primi decenni appunto del cristianesimo questi episodi di persecuzioni vere e proprie che poi avranno anche un rilievo nella storia dell'impero romano pensate fino al IV secolo, quindi già per tre secoli tra l'impero romano e il cristianesimo c'è una lotta una lotta che va avanti. Ebbene questa nasce già nei primi decenni, nei primi anni con la contrapposizione tra quella che viene detta la Chiesa e la Sinagoga cioè tra l'appartenenza al popolo di Israele, comune di tutti, e il rilancio della dottrina cristiana e in questa crisi di crescita e di distacco, se vogliamo, reciproco tra quello che poi sarà chiamato appunto alla religione cristiana e una certa dottrina, quella farisaica, soprattutto della religione israelitica ci sta un punto di crisi che troviamo appunto alla fine del capitolo V degli Atti degli Apostoli dopo aver raccontato alcune vicende dei primi discepoli, infatti il nostro caro Luca ci racconta un incontro dei discepoli, in particolare di alcuni degli Apostoli Pietro e Giovanni con il Sinedrio, con l'organismo di governo pubblico religioso di Israele e di Gerusalemme del tempo di Gesù e questo incontro avviene dopo una incarcerazione, cioè gli Apostoli vengono portati via dal Tempio colpevoli di aver operato segni, prodigi, dopo essere stati già anche liberati miracolosamente una volta dal carcere sappiamo Pietro poi verrà di nuovo rincarcerato, vengono interrogati dal Sinedrio e dopo aver presentato la loro posizione, dopo che appunto da parte del Sinedrio c'è il divieto di parlare in nome di Gesù, gli Apostoli rispondono semplicemente che preferiscono obbedire più a Dio che agli uomini, quindi cercano di seguire la loro coscienza, c'è un grande dibattito dentro al Sinedrio ricordate anche Nicodemo, un personaggio che abbiamo già incontrato e che era parte di questo gruppo un gruppo di riflessione, di approfondimento, anche di fedeltà alla legge di Israele e in questo confronto tra i membri del Sinedrio, dice gli Atti degli Apostoli, si alzò allora un fariseo di nome Gamaliele, dottore della legge, stimato presso tutto il popolo e dato ordine di far uscire per un momento gli accusati disse Uomini di Israele, badate bene a ciò che state per fare contro questi uomini Qualche tempo fa venne Teuda, dicendo di essere qualcuno A lui si aggregarono circa 400 uomini, ma fu ucciso e quanti si erano lasciati persuadere da lui, si dispersero e finirono nel nulla Dopo di lui sorse Giuda il Galileo, al tempo del censimento e indusse molta gente a seguirlo, ma anche gli perì e quanti si erano lasciati persuadere da lui, furono dispersi Ecco allora il contesto nel quale l'intervento di questo grande dottore della legge di questo grande maestro di Israele si colloca per comunicare con il Sinedrio una intuizione Già questo era successo, dice Gamaliele Prima di Gesù, nell'epoca quasi a lui contemporanea si parla del censimento, ricordate il censimento è quello appunto raccontato da Luca nell'occasione della nascita di Gesù, quindi parliamo di 30 anni prima e prima ancora qualcuno dei più anziani a memoria di un altro personaggio quindi Giude il Galileo al tempo del censimento e poi Teuda, entrambi personaggi che a noi non risultano conosciuti dalle storie di Israele dalla cronaca che abbiamo, quella soprattutto di uno storico ebraico Giuseppe Flavio che ha scritto appunto riguardo ai periodi poco prima della nascita di Gesù e che ci racconta un po' anche la distruzione del Tempio di Gerusalemme Da Giuseppe Flavio non sappiamo grandi notizie di questi due ribelli o comunque di questi due personaggi che creano disordini rispetto al governo di Gerusalemme ma ecco, l'importante che ci viene comunicato di questo messaggio di Gamaliele è proprio che ci sono questi due casi, due casi aperti il primo appunto Teuda al quale si aggregarono circa 400 uomini quindi ha avuto un certo seguito nella città di Gerusalemme e poi Giude il Galileo molta gente lo seguì, dice ma quando questi due personaggi sono morti è finito un po' tutto avendo fatto segni, prodigi avendo lasciato una certa impronta nell'immaginario del popolo di Israele o comunque della città di Gerusalemme questa parola è una parola che è rimasta sospesa e poi si è dispersa sia quella di Teuda che quella di Giude il Galileo e prosegue Gamaliele per quanto riguarda invece il caso presente io vi dico non occupatevi di questi uomini e lasciateli andare se infatti questa teoria o questa attività è di origine umana verrà distrutta ma se essa viene da Dio non riuscirete a sconfiggerli non vi accada, cioè di trovarvi a combattere contro Dio ecco un ragionamento quello di Gamaliele che ci aiuta a capire qual è lo spirito con il quale di fede con il quale viene presa in considerazione la vicenda di Gesù certamente è una fede un po' incredula, un po' credente quella di Gamaliele perché giustamente dice il Signore c'è il Signore può operare può fare prodigi che noi non comprendiamo ma questo suo intervento va messo alla prova occorre lasciare che la storia e i fatti riescano a dare una risposta alla domanda alla domanda di fede alla domanda che ciascuno chiede di di trovare una risposta nel senso della propria vita e così questa teoria o questa attività viene messa alla prova dal Sinedrio infatti la parola di Gamaliele viene ascoltata e vengono rilasciati gli apostoli i quali appunto pur essendo stati avendo ricevuto l'invito a non predicare più nel nome di Gesù escono lieti lieti anche di essere stati oltraggiati per amore del nome di Gesù e ogni giorno nel Tempio a casa portavano il lieto annunzio che Gesù è il Cristo dice il racconto degli atti ecco allora chi è questo Gamaliele questo grande maestro di Israele che si trova di fronte a una scelta importante riguardo alla gestione della nascita del fenomeno cristiano è certamente un uomo che di fede un uomo che è mosso da un ragionamento di fede accoglie la novità e rimane stupito rimane si mette in discussione riesce a mettersi in discussione anche di fronte a un fatto che apparentemente è inspiegabile così come si mette da parte no? da osservatore esterno perché è incuriosito ricordate anche un altro episodio che ci viene raccontato dal Vangelo il re Erode stesso quello che poi fa decapitare Giovanni il Battista dice che era molto incuriosito dalla figura di Gesù anche se questo nel suo nella sua predicazione lo metteva in crisi però continuava a sentire questo desiderio di conoscere la figura di Gesù e così anche Gamaliele e così come tanti tanti uomini tante donne nella storia del cristianesimo sentono parlare di Gesù che fa risuonare qualcosa dentro di loro ma non ha il coraggio di venire allo scoperto noi non sappiamo se Gamaliele abbia aderito o no alla dottrina cristiana evidentemente sembra di no perché lo stesso Paolo appunto che vive molto dopo questi fatti ha ricevuto le istruzioni del suo maestro Gamaliele e poi perseguitava i cristiani anche diciamo circa un decennio se non un ventennio dopo questi fatti raccontati per cui probabilmente Gamaliele ha mantenuto un po' la sua posizione critica e di distanza ma c'era un'apertura un'apertura che viene appunto dalla fede chissà chissà da dove viene quest'opera chissà non ci accada di lottare contro Dio ecco allora uno spunto importante di riflessione che troviamo anche in un brano del Vangelo in cui Gesù dice chi non è contro di noi è per noi riguardo appunto ai discepoli inviati in missione e alla loro sorte nel mondo ecco la fiducia la fiducia nella verità che trova ragione trova spazio per virtù propria per la sua propria forza e questo episodio che ci racconta appunto gli atti degli apostoli ci può essere di grande aiuto oggi per comprendere cosa significa vivere la novità la verità l'incontro con i fatti della nostra vita facendoci la domanda che Gamaliele si fa se mi accadesse di lottare contro Dio se questo fatto questo evento questa situazione che ci capita fosse legata alla volontà di Dio e io non lo so io non riesco a capirlo quante volte nell'esperienza umana quotidiana ci capita di affrontare delle situazioni che ci mettono in crisi che ci fanno riflettere che ci mettono in discussione e quanto questa domanda che Gamaliele fa al Sinedrio può essere utile anche per noi nella consapevolezza che la parola del Vangelo è una parola potente è una parola che si fa strada i discepoli vengono appunto gli viene intimato di non parlare più nel nome di Gesù di rimanere fermi nel loro impulso missionario vengono anche minacciati però come dice il profeta Geremia dentro di me c'è un fuoco che io non potevo contenere e prendono posizione si prendono i loro rischi lanciano un messaggio che però è un messaggio che viene seminato appunto in un terreno che non è detto che accolga come dice Gesù questo seme seminato nel terreno non sempre cade sulla terra buona ecco allora la necessità di contemplare questo mistero di grande libertà l'esperienza cristiana è un'esperienza di grande libertà libertà innanzitutto in chi è chiamato ad annunciarlo il Vangelo una libertà dalle paure dalle dalle chiusure ma anche libertà di chi accoglie libertà di chi sa mettere in discussione e attendere e guardare e scrutare e accettare che la verità delle cose nasca dal di dentro non dal di fuori non per costrizione non per tradizione semplicemente ma che di fronte a un fatto ci sia la possibilità di avere il tempo di lasciarlo fermentare di lasciarlo manifestare le sue caratteristiche le sue origini come dice Sant'Ignazio di fronte a una situazione che ci fa ci mette in tensione occorre avere il tempo giusto per guardare valutare i pro i contro imparare a riconoscere qual è la radice dalla quale provengono le cose che incontriamo i fatti della nostra vita capire dare un nome alle ispirazioni a quelle che appunto Sant'Ignazio chiama gli spiriti cioè i moti interiori le idee noi diremmo quello che ti passa le intuizioni che che ti colgono e ti nascono da dentro imparare a vagliarle per capire da dove vengono se vengono da Dio o dal nemico se vengono dallo spirito buono o dallo spirito cattivo o dal semplicemente dalla nostra ingenua vitalità e questa valutazione certamente accade nel Sinedio infatti i discepoli vengono lasciati andare liberi in un certo senso di vivere non senza difficoltà il loro annuncio il brano successivo che troviamo negli Atti degli Apostoli è la storia di Santo Stefano il primo martire appunto in quel momento lì non è più tanto essere incarcerati ma è addirittura per le invidie e i disequilibri che si erano creati nelle comunità a causa appunto della nascita di questa nuova dottrina addirittura la lapidazione Stefano viene ucciso per la sua testimonianza da greco convertito prima all'ebraismo poi al cristianesimo e per Gesù e nel nome di Gesù appunto accetta questa testimonianza estrema per cui la via al cristianesimo non è certamente stata spianata non è una via in discesa per gli Apostoli dopo l'intervento di Gamaliele però viene lasciato aperto questo spazio uno spazio alla domanda da dove viene questo quest'opera questa questa attività questa dottrina viene da Dio o viene dagli uomini se viene da Dio non si spegne se viene dall'uomo non occorre preoccuparsi non occorre contrastarla troppo dice Gamaliele ecco loro un buon criterio di discernimento che vogliamo adottare nella nostra vita e meditando questo episodio degli Atti degli Apostoli riconoscere come sia sempre importante per noi lasciare che la verità che il Signore opera nella nostra vita e semina nei nostri cuori possa germogliare portare frutto e come dice Gesù dai loro frutti li riconoscerete ave Maria splendore del mattino puro è il tuo sguardo ed umile il tuo cuore protegga il nostro popolo in cammino la tenerezza del tuo vero amore puro è il tuo sguardo ed umile il tuo cuore protegga il nostro popolo in cammino la tenerezza del tuo vero amore protegga il nostro popolo in cammino la tenerezza del tuo vero amore